come si la baso? ooooh oh dio semplicemente chiamiamo per la prima parte anche noi Gio possiamo nello fare prima Gio? va bene Gio andiamo chiamo Gio chiamo Gio un cerbiatto ah no è un albero oh ma per caso avete visto un dino? eh? perchè io sto cercando un cerbiatto qua se vedete dei cerbiati morti vi animateli basta devo modificare le impostazioni non ci vedo più niente servono i cerbiotti per la carne secondo te per far cosa ma io non ho capito ma questa è una rampa di lancio per un f35 o una casa no no è la casa bene allora mi sa che possiamo anche parcheggiare l'elicottero dobbiamo ho perso il giolongo il problema è che non possiamo parcheggiare ma chi andrebbe sott'acqua hai perso il giolongo vabbè tranquillo intanto non è una gravissima perda abbiamo perso un moderatore in giro per la mappa sto arrivando ma mi sono appena rotto una gamba si si ma stai tranquillo non ti vuole nessuno adesso ci vuole il doppio del legno per farle mura ci vuole l'albero per farle l'albero ci vuole il legno io c'ho un paio di semi se mi dite dove scappare il legno ci vuole il seme ci sono due daino io mi dico un altro daino ciao daino giochiamo a nascondaino l'altro risponde daino ma io sto arrivando su potete sentire delle barzellette brutte no basta che differenza c'è tra gesù e un quadro due chiodi ci sono due daino non ho conto una io no allora ci sono le coccodriglie c'è una famiglia un po' lungo le piccoli sarpenti e l'aquila ma l'isola è rotonda oppure com'è? come me comunque ascoltatemi allora c'è un gruppo di napoletani che vanno ad abitare in in Veneto sicuramente che si rendono conto che sono estraneati dal perché noi mangiamo la polenta e loro no sono estraneati dalla gente disemmi quale è tra questi allora vanno vanno da un prete e gli dicono esclusi monsignore ma come facciamo a diventare come facciamo a farci a sabbia della comunità veneta ah io non so ma fate un bagno nel teveso e allora nel che? no nel po nel po nel po po no ma prima cos'era nel teveso? popolo popolo nel teveso andatevi a fare un bagno nel po passate da una riva all'altra